buongiorno eccoci questo qui sotto è cassino la città di cassino stiamo salendo su alla abbazia ma già da qui si intuisce perché era così importante l'abbazia è lì su praticamente manca ancora 5 600 metri qualcosa di storico da vedere interessante e si intuisce perché era così importante ad esempio qui già qui siamo più alti di alcune cime degli appennini si domina veramente tutto il centro sud italia con un buon binocolo cosa che facevano quei cattivoni dei tedeschi durante la seconda guerra mondiale volendo essere volendo essere gentili va bene va bene va bene bello comunque bello oggi ciao